Bene, ci siamo. Buonasera, innanzitutto grazie alla nostra ospite di questa sera, a Giulia, Giulia Rovere, PMD Club, tanta roba. Io voglio iniziare così, Giulia. Noi ci conosciamo, sappiamo chi siamo, ma in realtà non abbiamo mai parlato, non ci conosciamo così profondamente a livello personale, dico io. E quindi ti voglio presentare come ti vedo io. Poi mi posso anche sbagliare. Ti vedo una donna molto, molto professionale, una donna molto preparata, una donna che sta al fatto suo, che è entrata in un team già molto avviato, perché non sai, nella linea di Cristiano, di Giada, però si è fatta strada, si è fatta conoscere con le sue particolarità. Hai trovato anche tu la tua strada speciale, la tua strategia e devo dire che ti ho apprezzato veramente tanto. Io ti vedo proprio nel business UG come la PMD un po' internazionale, perché sei anche molto, diciamo, sei andata anche all'estero. Non so, la Spagna, la Svizzera, poi ecco, non conosco, però questa è l'idea che mi sono fatta di te. E quindi volevo presentarti e farti conoscere al team, perché so che ci darai tanto, tanto valore. E come ti ho detto, voglio sentire la tua storia, perché io la tua storia non la conosco. Ti dico le mie impressioni, perciò grazie, grazie davvero. Aspetta il microfono, lo devo riaprire? Non so, forse l'hai chiuso, eh? Ok, non so cos'era successo. Ma mai. Intanto grazie, grazie, grazie di cuore e grazie anche per questa presentazione che non mi aspettavo, veramente. È un onore per me essere qua stasera e è un onore parlare dopo quello che hai detto di me. Come diciamo, io e te ci conosciamo relativamente poco, anche se ci seguiamo e su tante cose credo che ci sia una profonda stima reciproca e soprattutto comunque una e l'altra su alcuni aspetti siamo simili, per tanti versi, molto diversi su altre cose, ma sicuramente abbiamo una visione del business che è molto simile. E questo in questa cosa a me fa un sacco piacere ed è un motivo in più per cui sono stra contenta di essere qui stasera. Allora, vi racconto un po' chi sono io. Io, chi ero prima di UG soprattutto? Io prima di UG ero un'imprenditrice, un'imprenditrice follemente innamorata del suo lavoro, il lavoro per cui ho studiato. Io avevo un'agenzia di comunicazione di eventi, adoro tuttora quel mondo, ho sempre lavorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 perché quando ami ciò che fai l'orario non lo guardi, soprattutto quando hai un'attività tua. Quindi io avevo la mia agenzia con il mio compagno, altri tre soci, avevamo una quindicina di dipendenti, quindi una realtà anche abbastanza impegnativa. Però poi è successa una cosa, è successa una cosa un po' inaspettata, nel senso che nel momento in cui io ho iniziato a pensare, ma però mi piacerebbe diventare mamma, sono rimasta incinta praticamente subito. E questa cosa ha completamente cambiato, quella che era un po' le mie priorità. E quindi io mi sono ritrovata in una situazione in cui, vista da fuori, avevo una vita perfetta, quindi bellissimo lavoro, un'attività mia, guadagnavo bene, stavo per diventare mamma, un compagno fantastico, andava tutto bene. E quindi tutti pensavano, ma cosa vuoi di più dalla vita? Però fondamentalmente io non ero felice. Non ero felice perché nel momento in cui sono diventata mamma, mi sono resa conto che in quei sette anni che io ho dedicato anima e corpo a costruire, a crescere la mia azienda, avevo completamente perso il tempo per me stessa. Io non avevo tempo per nulla, io ero una di quelle persone che accumulava le smartbox regalate perché non aveva tempo di utilizzarle, le faceva scadere. Ero una di quelle persone che non riusciva a ritagliarsi un momento per sé. Lavorando negli eventi, nella comunicazione, ovviamente dal lunedì al venerdì sei in ufficio, tra l'altro quando sei titolare, quando sei l'imprenditore, sei il primo a arrivare in ufficio, sei l'ultimo a andare a casa. Nel weekend poi c'erano gli eventi sul campo, quindi capite bene che nel momento in cui sono diventata mamma c'era qualcosa che cozzava. E io lì ho sentito la grandissima esigenza di riprendermi in mano la mia vita, di ritornare davvero a essere padrona del mio tempo e quindi di potermi gestire, di poter crescere edo. Perché io avevo preso la decisione di diventare mamma per crescere mio figlio, stare con lui e non per doverlo purtroppo, per poter crescere a livello professionale, doverlo piazzare tra l'asilo e i nonni, che per carità benissimo, però figlio volevo crescermelo io, non volevo perdermi il grosso delle sue nuove esperienze. E quindi inizio a guardarmi intorno, prendo la decisione momentaneamente di non rientrare in ufficio. Mi prendo una maternità abbastanza lunga, nel senso che decido di stare a casa praticamente un anno ed è nato a ottobre del 2013. E in questo anno inizio a guardarmi intorno, ho provato, ho fatto altre esperienze, ho cercato la mia strada e ho conosciuto il mondo del network. Il mondo del network che mi ha affascinato da subito, perché comunque sulla carta era ciò che io cercavo. Era la libertà, era il potermi gestire, era comunque il trasmettere quelli che erano i miei valori, il raccontare la mia storia, ispirare altre persone, comunque avere contatti con la gente. Questo per me era fantastico. Peccato che mi sono scontrata, dico scontrata proprio subito, con il network tradizionale. E quindi mi sono ritrovata in un vortice di riunioni, presentazioni, la sera c'è l'appuntamento, poi devi chiamare le persone, devi andare di qua, devi andare di là. Cioè praticamente ero nella stessa situazione di prima, solo che a quel punto lì ho detto no aspetta, fermati un secondo, a questo punto hai la tua azienda, dico aspetta, non aspetta un altro che tu torni, cioè non ha senso. Finché a un certo punto, intorno a fine ottobre, in sé novembre, Giada, io e Giada ci conosciamo molto molto bene già da prima, mi dice guarda ho scoperto questa cosa tramite una mia amica e probabilmente è quello che stavamo cercando. è online, è su Facebook, proviamo. Io fondamentalmente lì ho detto ok, cioè non ho niente da perdere, posso solo che guadagnarci. Se non ci provo, non saprò mai se effettivamente è diverso da quello che avevo già provato e non ha funzionato per me. Cosa può succedere? Nulla. Se va male? Ma soprattutto, io quello che mi sono chiesto non è se va male, ma se va bene. E lì è iniziata la mia avventura, ho aperto il codice 26 novembre 2014 e da subito, io sono entrata subito nel, io sono entrata comunque insieme per business e ho conosciuto i prodotti in contemporanea. Avevo in verità un bel po' di chili anche ancora che mi tenevo ben stretti, quindi è stato doppiamente interessante per me perché comunque mi ha permesso veramente anche di lavorare molto su me stessa, in quel senso sul mio studio di vita e tutto il resto. Quindi io mi sono innamorata subitissimo dei prodotti, io sono così, io sono una di quelle persone che ama fare le cose al mille per cento. Cioè ho aperto il codice, ho voluto conoscere tutti i prodotti, cioè per me non esisteva non sapere che cosa avevo tra le mani. Addirittura io avevo ordinato anche il booster, anche se mi hanno detto no, tu stai ancora lattando, quindi il booster c'è la capellina, non lo puoi usare. Fa niente, io lo voglio assaggiare, voglio vedere come è fatto, perché se no non so cosa raccontare alle persone. Quindi io sono fatta così, cioè mi butto molto a capofitto delle cose e questo però è sempre stato anche un mio grandissimo difetto, un grandissimo limite. Perché vi dico questo? Perché il mio inizio, presa da tantissimo entusiasmo, è stato catastrofico. Nel senso che io mi sono ritrovata al 26 dicembre, quindi a un mese esatto dall'apertura del mio codice, ad avere zero risultati. Zero risultati perché io ho fatto di testa mia per un mese. Io per un mese sono stata quella del, io arrivo dal mondo della comunicazione, quindi so come si fa. Io ho già fatto network, quindi questo mondo lo conosco. Io gestivo pagina Facebook per i miei clienti, quindi facevo ads per i miei clienti, quindi so benissimo come funziona. In passato ho avuto esperienze di vendita, anche se non mi è mai piaciuto quell'ambiente, però qualcosina sapevo. Tra l'altro poi ho studiato marketing, quindi masticavo tutto questo ambiente, diciamo. E quindi io ero brava. Io ero brava, io sapevo come dovevo fare le cose e non avevo tempo da perdere. Ero talmente lanciata verso i miei sogni, i miei progetti di realizzare, che tra l'altro non avevo tempo da perdere nel fermarmi ad ascoltare chi invece stava avendo risultati. Nel fermarmi a veramente vedere cos'era la strategia che avevamo in mano e che era un qualcosa di completamente diverso e di completamente, veramente differente da quello che io avevo conosciuto fino a quel momento. E quindi un mese, zero risultati. Anzi no, se devo essere sincera ho fatto una cliente, la mia migliore amica, che mi ha semplicemente detto non so cosa ti sei messa a fare, ma io mi devo sposare tra sei mesi, devi farmi dimagrire, quindi qualsiasi cosa sia la voglio. Quindi non la possiamo contare. E quindi mi sono ritrovata a scrivere a Cristiano. Io sempre, proprio per questo mio modo, no? Di essere abbastanza o tutto niente, mi sono subito andata a confrontare con persone che di risultati ne stavano avendo tanti. Perché volevo avere veramente il confronto con persone che stavano cambiando la loro vita, che stavano ottenendo quello che io volevo. Io non ho iniziato questa attività, l'ho sempre detto per avere i risultati che ho avuto, perché mai me ne sarei immaginati. Non l'ho neanche iniziata giusto per arrotondare, l'ho sempre vista come la mia alternativa reale. Cioè il mio obiettivo era a tempo pochissimo sostituire quello che erano, quello che era travolgato il mio stipendio che prendevo dalla mia società per potermi togliere da quel mondo lì e dedicarmi solo a questo stando a casa. Quindi ho avuto sempre abbinazioni abbastanza alte. Vado da Cristiano, 26 dicembre, la data non è da sottovalutare, e gli scrivo Ciao Cristiano, volevo un confronto con te perché ho bisogno di capire come fare DDS a gennaio. La sua risposta è stata Ah, dicembre è finito. E io, beh, sì, ormai, cioè Natale, Capodanno, ormai, siamo qua, siamo al 26, non ho concluso niente fino adesso, cioè, se quattro giorni figurati, pensiamo a gennaio, no? Perché gennaio tutti vogliono tornare in forma a un momento giusto. Lì mi sono presa una ribaltata di quelle storiche, ma ho capito una grandissima, due grandissime verità. La prima è che io con il mio atteggiamento del sapere, del credere di sapere, avevo talmente la testa piena di quello che già sapevo che non c'entrava più niente. E quindi la cosa migliore che potevo fare in quel momento era resettare, cancellare, fare un passo indietro, una cosa che per me è stata difficilissima perché, tra virgolette, ammettere di non sapere le cose, penso sia veramente, soprattutto perché ha un carattere come il mio, molto difficile. E quindi fare proprio un passo indietro e affidarmi veramente alle persone che i risultati stavano avendo. E questa è stata la prima cosa. E la seconda cosa è stata che io ho capito veramente quanto dipende dal nostro atteggiamento. perché io la vedevo come un ci sono, ormai sono solo quattro giorni, cosa vuoi che si possa fare? Cristiano mi ha fatto vedere ci sono ancora quattro giorni, si può fare tutto quello che vuoi. E lì veramente io, finita quella chiacchierata in chat, ho capito che stava a me in quel momento. Io in quel momento dovevo prendere una decisione e dovevo decidere se veramente volevo portare avanti questa cosa, se veramente un softball donation, i juice pass, erano ciò che mi avrebbero cambiato la vita, mi avrebbero permesso di realizzare ciò che volevo, oppure no. La decisione è stata sì e il 30 dicembre ho chiuso il BDS. Io ho capito tantissime cose. Io ho capito veramente tante cose. perché io credo che se non mi fossi scontrata subito con quella situazione probabilmente avrei mollato, perché comunque non è facile mettersi in gioco al 100%, lo so, però ne vale la pena assolutamente. Quindi poi da lì sta andata avanti, gennaio e febbraio, riconferma DDS, CV riconferma, marzo. Arriva a marzo, a marzo c'è la convention a Madrid. E io non vado. Ovviamente, no? Scontato. Cosa ci vado a fare a Madrid? Sono solo CV. Non ho un grande team che può venire con me, non c'è nessuno, non va nessuno, ho un bimbo piccolo. Madrid, le spese, l'aereo, il volo, eccetera, calcolando che io, apro e chiudo parentesi, era da, quindi dall'ottobre 2013 che non lavoravo in ufficio e pagavo una persona per sostituirmi. Quindi io comunque non prendevo soldi da più di un anno. Quindi in questa situazione non stavamo malissimo, però neanche potevamo permetterci di fare spese così. Quindi di nuovo, assolutamente capito l'importanza dell'evento in quel momento. E quindi non vado. Anzi, addirittura mi viene anche in mente di dire, no, facciamo così, cavolo, tutti sono alla convention, ne approfitto, no? Io invece metto a chattare. Genio. Non vado alla convention. Fino a marzo c'è il bootcamp. E ovviamente, ma cosa ci vado a fare io al bootcamp, no? Finché lì veramente viene fuori l'importanza che ha avuto per me da sempre, infatti davvero accanto a una persona che da subito ha creduto quanto me in questa attività, infatti quasi da subito anche lui ci si è buttato full time, il mio compagno Daniele, che il venerdì, quindi il giorno prima del bootcamp, mi viene da me e mi dice ok, parliamoci chiaro, se tu veramente credi in ciò che fai, se tu veramente credi che questa è la nostra strada, non mi interessa come, non mi interessa con che soldi, non mi interessa nulla, ma noi domani mattina siamo a Chiannaciano. Perchè che io abito in Pianza, ok, quindi non è proprio dietro l'angolo, cioè sono queste sette ore di macchina più o meno e il mattino dopo, quindi il venerdì, questo succede il venerdì e saremmo dovuti partire l'indomani mattina prestissimo al checo, in volgo Giada in questa cosa che anche lei non era stata a Madrid e non stava andando al bootcamp e decidiamo ok, facciamo questa pazzia, andiamo. Per una serie di motivi non potevamo usarne la mia macchina nella sua. Quindi io chiamo il noleggio che usavo quando avevo l'agenzia di eventi e gli dico guarda, ho un emergente, ho bisogno di una macchina da stasera e te la riporto il venerdì e lui mi dice guarda, è un periodaccio, ho due cose disponibili, ho una panda o un pulmino a nove posti. Se vuoi ti do il pulmino al prezzo della panda perché tanto c'è un bel rapporto, lavoriamo sempre insieme. Quindi ci ritroviamo tipo alle due di pomeriggio del venerdì con un pulmino a nove posti ci guardiamo e dicevamo vabbè adesso dobbiamo trovare degli altri pazzi come noi che vengono giù. Mattino dopo alle cinque partiamo e abbiamo un pulmino pieno. Quindi abbiamo coinvolto alcune ragazze del team con bimbi a seguito e siamo partiti la volta di Chianciano. Lì è cambiato tutto. Io sono entrata in quella sala, mi ricordo tutto di quella sala, mi ricordo come era fatta, mi ricordo quasi ogni emozione, ogni persona che ha parlato su quel palco. Io lì ho capito davvero, io lì ho capito che fino a quell'attimo non avevo capito niente e lì ho capito che ok, noi lavoriamo online, è vero, è una figata, però gli eventi sono quel qualcosa che ti permettono veramente di capire cosa hai tra le mani. Sono quel momento in cui vivi delle emozioni che non si possono raccontare e non ti posso raccontare un evento. Io posso farti vedere tutti i video che vuoi ma non ti arriverà mai un millesimo forse ti arriva di quello che è viverlo un evento e chi di voi ha vissuto qualche evento lo sa. Quindi io lì veramente capisco che ho in mano qualcosa di grandissimo, vedo finalmente dal vivo persone che fino a quel momento ho visto solo nei video, li sento parlare sul palco, sento raccontare storie a persone normalissime e lì decido due cose. Io ho deciso due cose e la prima è che se ce l'avranno fatta loro ce l'avrei fatta anche io e quindi ben presto sarei stata io lì su quel palco per raccontare la mia storia e la seconda sempre per il discorso che ho prima che io sono giusto poco ambiziosa, poco, che ben presto avrei avuto un evento del genere solo con il mio team e quindi sarei stata io lì sul palco con le mie persone che mi avevano seguita in questa avventura capite che io ero un CV quindi non è che avevo timo o cose però ho proprio visto queste due cose. Sono tornata a casa e tre giorni dopo ho chiuso il mio CVS e quindi voi dite fino a qua beh tutto bene figata, no? Andato tutto bene. Sì però c'è sempre un però perché come ogni come ogni strada quando gli obiettivi che tu vuoi raggiungere sono ambiziosi quindi le cose quando le cose che vuoi realizzare sono grandi le strade sono sempre un po' tortuose, no? Sarebbe bello prendere motostrade andare dritti spediti senza nessun ostacolo ma non è sempre così quindi cosa è successo? È successo che io mi sono resa conto dopo il CVS che c'era qualcosa che non andava c'era qualcosa che non andava perché i tre mesi successivi sono stati tre mesi molto di non crescita molto stabile quindi le persone nuove che arrivavano facevano fatica a partire c'era qualcosa che non mi convinceva in me no? Nel senso non lo so non mi sentivo al 100% le cose non succedono mai per caso e vedo una sponsorizzata su Facebook di un corso di crescita personale vado vado questa serata così della serie non ho niente da perdere no? Io sono così ne fai tanto se non ho niente da perdere io ci provo perché almeno se ci ho provato non posso dire che eh ma se l'avessi fatto io lo faccio vado questa questa serata dall'inizio veramente a capire quanto è importante la nostra crescita in contemporaneo la crescita del nostro business io ero un CVS su cioè di qualifica di fatturato di payline ma ero ancora un DDS di mindset ero un DDS di atteggiamento non ero cambiata non ero cresciuta cambiata sempre in senso positivo intendo io lì mi sono resa conto che se volevo veramente fare il salto nella mia attività se volevo veramente anche iniziare a trasmettere tutto quello che io ero tutto quello che io avevo alle persone che avevo intorno dovevo in primis lavorare su me stessa io avevo tantissimi limiti che mi ponevo tantissime credenze limitanti blocchi assurdi io ero una di quelle persone che all'università agli esami orali andava malissimo perché avevo il terrore a parlare in pubblico ad esempio per farvi un esempio però poi ho fatto l'ossa una convention quindi capite quanto il crescere ti porta veramente a fare delle cose che mai avresti pensato ed io ho capito veramente questa cosa ho iniziato a lavorare su me stessa ho iniziato pian piano a scardinare un po' di credenze a lavorare sui miei atteggiamenti sui miei pensieri su tante piccole cose che mi portavo dietro anche dal mio passato e dopo poco è arrivato CNMQ è arrivato CNMQ a luglio a luglio è arrivato CNMQ agosto agosto ovviamente tutti in vacanza ma io avevo deciso che volevo far CNM a settembre quindi per me la vacanza era un un di più e vi racconto anche questo aneddoto che magari qualcuno di voi ha già sentito perché ne avevo anche parlato a un bootcamp vado in vacanza quell'anno le vacanze che avevamo organizzato erano in montagna dai miei così vedevano un po' mio figlio perché i miei abitano lontani da me quindi non ne vedrò così mai e ne approfittavo così lo notemano un po' e io potevo già io potevo lavorare perché avevo un CNM da fare a settembre i miei però ai tempi non avevano assolutamente capito quello che stavo facendo anzi non credevano assolutamente che io veramente avessi un lavoro o un qualcosa che mi stia dando da vivere tanto più che mia mamma ai tempi era un continuo ma quando è che ti trovi un lavoro ma hai pensato che cosa fare ma guarda che c'è questa mia amica che sta cercando se vuoi di giro il tuo contatto e io invece conventissima sulla mia strada stata dritta per la mia strada solo che quando eravamo in vacanza insieme avere delle persone che continuamente mi facevano notare sei sempre col telefono in mano se sei venuta qua per stare lì a perdere tempo su Facebook potevi stare a casa tua cosa avrai mai così importante da fare che io ti parlo e tu scrivi capite che non era molto compatibile con il voler stare in focus per fare il CNM quindi io ho fatto le varigie e sono tornata a casa quindi ho annullato le vacanze ho annullato le vacanze quindi quell'anno non abbiamo fatto vacanze abbiamo fatto agosto qua a casa e però a settembre il CNM è arrivato io da ogni cosa cerco sempre di imparare e qua ho imparato una cosa importantissima una cosa importantissima che è se tu vuoi qualcosa di grande dalla tua vita se tu vuoi cambiare qualcosa nella tua vita devi essere disposto a rinunciare a qualcosa perché se tu non sei disposto a rinunciare a nulla se tu non sei disposto a cambiare nulla di quelle che sono magari le tue abitudini di quelle che sono le cose che in quel momento magari ti fanno stare bene non ci sarà mai posto per qualcosa di più grande se io non avessi rinunciato a quella vacanza probabilmente non avrei fatto CNM a settembre probabilmente le cose non sarebbero andate poi come sono andate se io non avessi rinunciato a quella vacanza e non è stato bello non è stato facile sicuramente probabilmente l'estate dopo non avrei fatto tre mesi di vacanza in giro per l'Europa a volte dobbiamo essere disposti a rinunciare a qualcosa sempre però cosciente di una cosa importantissima che noi in questo momento dobbiamo essere disposti a fare delle rinunce perché questo ci porterà ad avere indietro con gli interessi in un periodo neanche troppo lontano tutto perché tante volte uno è disposto magari a rinunciare a tantissime cose per tutta la vita pur di non per virgolette rischiare di perdere magari il posto sicuro però hai rinunciato tantissimo per tutta la vita a fronte di che cosa? di poche e niente sì di una tensione che continuerà se ti va bene a farti vivere nello stesso modo in cui hai vissuto fino a quel momento invece noi siamo in una situazione completamente diversa perché noi abbiamo la possibilità se sfruttiamo davvero ciò che abbiamo in mano di rinunciare qualcosa per un breve periodo per poi averlo amplificato per il resto della nostra vita è un po' diverso un po' tanto diverso e quindi da lì poi vabbè non so raccontarvi poi tutto tutto l'ambadanne io sono famosa come diceva un po' anche Sara per essere abbastanza internazionale nel senso abbastanza business anche all'estero ma anche abbastanza internazionale nelle mie qualifiche perché ho chiuso le qualifiche più importanti mentre ero in vacanza all'estero e soprattutto le ultime due perché io l'executive l'ho chiuso mentre ero in Israele a Tel Aviv in vacanza e quindi è stato veramente svegliarsi la mattina in spiaggia in vacanza io ero lì a trovare la mia migliore amica che si era sposata due giorni prima quindi una stazione bellissima riuscire a raggiungere un obiettivo così grande calcolando che avevo fatto le ultime settimane gli ultimi dieci giorni lì in focus sì per la mia attività ma in focus anche per dare una mano a lei nel suo matrimonio perché tra l'altro era anche la sua testimonia quindi diciamo che era abbastanza impegnativa la situazione però veramente quando vuoi qualcosa lo tieni non ci sono scuse la soluzione la trovi sempre ma soprattutto io ho avuto penso ho vissuto un'emozione unica al mio PMD per quanto il PMD credo che sia un'emozione unica vi sarà penso che lo possono confermare ma per me lo è stato doppiamente perché il mio PMD è arrivato due mesi dopo è arrivato dentro il ramo a Ibiza con praticamente metà tre quarti dei top di Unstoppable con l'azienda e quindi è stata una cosa veramente straordinaria io ho dei bellissimi ricordi di quella settimana e quella settimana è stata è stata un grandissimo esempio per me ma soprattutto è stato un grandissimo esempio per tutte le persone che erano lì e per le persone che mi seguivano tra viguette da casa perché è stata la dimostrazione che quando tu hai un obiettivo quando tu vuoi davvero qualcosa puoi essere puoi essere in vacanza puoi essere a casa puoi essere in capo al mondo ma non ce n'è cioè siamo noi che decidiamo quali sono le nostre priorità è così cioè se la nostra priorità è realizzare il nostro sogno esserci qualsiasi cosa che questo non vuol dire che non ti godi la vacanza perché io dico la vacanza mi sono goduta tutto ho fatto le escursioni ho fatto le serate con tutti abbiamo fatto giornate in spiagge insieme però comunque abbiamo una grandissima fortuna che a noi basta questo ragazzi cioè a noi basta questo e quindi se lo vogliamo davvero in qualsiasi situazione noi possiamo essere sul pezzo la sera l'ultima sera eravamo a cena in un posto dove praticamente non prendeva il telefono io ero disperata tra l'altro eravamo a cena con Rosita avevo Rosita seduta di fronte a me diciamo di fronte io disperata perché il telefono non prendeva dovevo inserire degli ordini cioè a un certo punto mi sono fatta prestare il telefono da Rosita perché era l'unico che prendeva cioè veramente si trovano soluzioni lì vabbè il film poi è stato fantastico perché mi hanno supportato in tutto mi hanno dato una mano anche appunto quando non avevo linea e quindi il lavoro di team poi in quel sistema è qualcosa di grandissimo però veramente se voi volete raggiungere un obiettivo niente e nessuno vi può fermare se lo volete davvero quindi quando quando tante volte ci nascondiamo dietro qualche scusa dietro qualche difficoltà chiediamoci veramente quanto vogliamo raggiungere ciò che abbiamo detto un obiettivo un obiettivo ok è bello scriversi i bigliettini voglio fare questa qualifica va bene ma non è quello cioè è quella decisione che prendi da dentro è molto diverso cioè è una cosa che veramente nel momento in cui tu prendi davvero la decisione di raggiungere un obiettivo mi viene da dire è una scelta di vita nel senso che diventa veramente una tua priorità e questo non vuol dire che devi annullare tutto quello che c'è intorno questo non vuol dire che non esistono più le persone che è vicino che devi trascurare tutto e tutti non sto dicendo quello io ho sempre cercato comunque di organizzarmi di tenermi degli spazi per la mia famiglia degli spazi per me stessa perché comunque sono fondamentali perché ogni tanto dobbiamo anche staccare se no cioè andiamo in palla ma se noi abbiamo deciso veramente di raggiungere un obiettivo quando siamo sul pezzo siamo in focus davvero siamo produttivi è questo che fa la differenza non quanto tempo ci dedichiamo ma come ce lo dedichiamo e poi vabbè dal PMD in poi siamo andati avanti io poi ecco voi mi conoscete poco ma io quando inizio a parlare basta è un po' una prerogativa un po' di tutti è così allora stavo 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 guardando anche io qualche domanda sì allora mi dicono sono commossa e complessa ecco grazie ah sul cosa che facevi per stare in focus una cosa banale forse due cose due cose banalissime che però secondo me a me hanno sempre fatto tanto tanto la differenza la prima è che soprattutto all'inizio o nei momenti in cui sono più magari incasinata nei momenti in cui ho mille cose per la testa io mi scrivevo le cose quindi mi facevo veramente avete presente le to do list cioè le cose tutte le cose che devo fare ok mi facevo le mie belle liste cioè ma a volte scrivendo proprio tre post cioè quattro messaggi tutto e poi spunto e poi spunto e la sera prima di andare a dormire quando comunque più o meno la giornata è finita prendo in mano una lista e guardo se manca qualcosa lo faccio quindi questa è una cosa che a me ha sempre aiutato tantissimo io sono sempre stata abbastanza quella si deve scrivere le cose io scrivo un sacco infatti appunti a mano ovunque l'altra cosa che per me è fondamentale infatti io è una cosa che spesso faccio fare anche al mio team è il fatto che secondo me se noi non sappiamo che cosa vogliamo ottenere se noi non sappiamo che cosa vogliamo realizzare se noi non diamo un aspetto concreto al nostro obiettivo è come se non ce l'avessimo quindi per me una cosa importantissima è quello di farsi una vision board io sono molto visiva quindi per me la vision board è cartoncino foto appiccicate parole scritte concetti ma è così e io ce l'ho da sempre ce l'ho toccata la scrivania su da sempre cioè veramente ogni tanto l'aggiorno man mano se realizzo qualcosa lo sostituisco ma per me è una cosa importantissima perché quando sono in quelle fasi in cui non riesco a trovare magari l'energia di fare qualcosa o vedo che mi perdo o vedo che non sto tenendo che cosa voglio ce l'ho lì davanti ce l'ho lì davanti e ho ben davanti dove voglio andare cioè nella mia vision board oltre a tutta una serie di cose magari più materiali c'erano anche un sacco di cose che non sono materiali quindi a livello anche proprio di atteggiamento a livello di crescita c'era l'inglese c'era la libertà c'erano un sacco di cose c'era il parlare in pubblico che per me era un limite grossissimo c'era il fare le dirente cioè c'erano tutte anche queste cose qua per me sono tutti obiettivi che io mi do e quindi se tu sai dove stai andando automaticamente la motivazione la trovi e anche la strada se tu non hai ben chiaro il perché stai facendo questa attività o cosa vuoi ottenere in generale dalla tua vita allora ovviamente è più facile che le distrazioni ti distragano quindi questo è sono le due cose per me se non sai dove guardare è ovvio che guardi un po' dove ti senti rumore guardi esatto come dice sempre Dani mio compagno sembri un cieco in mezzo alla sparatoria bello perché se tu non sai dove ecco cioè se ci pensate però se tu hai gli occhi tappati perché non vedi dove stai andando perché non lo sai non hai una direzione non hai una direzione non puoi avere una direzione perché non hai nulla che ti che ti indirizza da qualche parte è come se tu proprio non potessi vedere dove stai andando quindi è importantissimo ascoltate non parlate solo a quello che vi interessa adesso ascoltate quando parlano le persone qualcosa di fantastico allora comunque sei pazzesca questa frase bisogna rinunciare le cose che ami per avere qualcosa di grande domani è fantastica grazie sei di ispirazione molto bene grazie stiamo facendo un lavoro con alcune ragazze proprio di quello che hai detto tu quindi è fondamentale secondo me è veramente fondamentale mai con te va bene poi mi stanno scrivendo c'era una ragazza che aveva chiesto dei post ma non riesco a scorrere la chat era Melania forse ah che tipo di post e quanti post fai allora io faccio sempre una premessa quando mi fanno queste domande il mio profilo di adesso non è il profilo di quando ho fatto PMD non è il profilo di quando ho fatto CNM non è il profilo di quando ho fatto DDSCV quindi questo è fondamentale è fondamentale perché comunque noi dobbiamo smettere quello che siamo in quel momento cioè quello che per me io sono io io sono così io sul profilo metto me stessa sul profilo racconto la mia quotidianità e e quindi ovviamente così facendo non può essere sempre uguale ma soprattutto una cosa per me importante è trovare il tuo modo di fare le cose ognuno ognuno ha il dovere secondo me di trovare il suo modo di fare questa attività il suo modo di raccontarsi alle persone tutti all'inizio abbiamo fatto un po' tra virgolette l'errore di scopiazzare chi aveva risultati ci sta è normale però ti rendi conto che e io faccio sempre un esempio molto banale su questo io ho fatto ma vi parlo veramente di mille anni fa un post semplicissimo in cui dicevo che stavo riniziando la miei 30 giorni di sfida adesso non mi ricordo più che cosa vuoi iniziare con me un post con una call to action così con una mia foto no scusate non c'era una mia foto c'era una foto tipo del calendario e dei pesi era una cosa più impersonale e avevo avuto tantissimo riscontro parecchie persone hanno copiato pari pari quel post foto perché non essendoci la mia faccia si riusciva a copiare anche la foto foto e testo e poi però non hanno avuto il riscontro o comunque molto meno rispetto a quello che avevo avuto io no ma questo è normale perché se tu prendi pari pari un post di un'altra persona e lo porti sul tuo profilo che è completamente diverso hai un modo di porti diverso hai un modo di comunicare diverso non avrà mai lo stesso risultato di quel post sul profilo della persona che l'ha creato cioè è così quindi è importante ok ispiriamoci le persone che hanno successo sì sì sempre prendiamo qualcosa da ognuno però facciamolo nostro rielaboriamolo e proponiamolo a nostro modo con il nostro stile se no diventiamo delle fotocopie uno dell'altro anche abbastanza noiosi quindi non c'è una regola secondo me neanche sul numero di post all'inizio io facevo molti più post adesso ad esempio ne sto facendo molti meno sto facendo molti meno perché comunque magari sto puntando più su post di un altro tipo secondo me il segreto è variare cioè variate in ciò che raccontate variate in ciò che mettete sul vostro profilo non siate banali non deve essere tutti i giorni la colazione il pranzo e la testimonianza cambia in senso non è che bisogna inventarsi chissà che cosa ma c'è modo è modo cioè a volte veramente io mi chiedo ma scorri la uomo la mattina e vedi 45 foto di colazioni tutti con le fette biscottate e va anche se variamo anche io pubblico ogni tanto ciò che mangio ma magari lo faccio nel momento in cui faccio qualcosa di particolare che può incuriosire le persone o comunque cerco sempre di fare una bella foto cioè mettere giù le cose carine cerchiamo sempre di questo secondo me è importante ricordiamo sempre che il nostro profilo è la nostra vetrina io in un negozio con una vetrina brutta con una vetrina sconclusionata disordinata dove non si capisce che cosa vendono non ci entrerai mai è la stessa cosa quindi curiamolo meglio un posto in meno ma con un senso che dei posti fatti tanto per farli perché qualcuno ci ha detto che bisogna fare cinque posti al giorno perché a volte poi si vede cioè a volte magari sono giornate in cui non hai l'ispirazione per fare cinque posti fanno tre fanno tre io sono di questa idea qua anche uno anche uno l'importante è che ne fai almeno uno al giorno perché quello sì però la giornata particolare può succedere però la giornata particolare può succedere ci mancherebbe uso una foto vecchia cioè però non cioè nel senso le cose fatte tanto per farle il nostro lavoro la nostra attività non è fare i post tante volte ci focalizziamo tantissimo su questa cosa qua e sottovalutiamo invece tutto il resto perché la nostra attività è creare relazioni non fare post potenzialmente potremmo anche non farne di post poi ovvio che un profilo curato interessante è assolutamente un valore aggiunto grandissimo ma noi possiamo avere il profilo più bello del mondo ma se non creiamo relazioni con le persone se non allarghiamo la nostra cerchia di contatti non le vede nessuno e quindi non serve assolutamente a niente quindi il focus è sempre su creare le relazioni con le persone allora mi chiedono tanto tanti complimenti brava grazie davvero i momenti di buio quali e come hai reagito mi chiedono più sul pratico però poi già hai reagito sì allora io io nei momenti no chiamiamoli così ho imparato che la migliore reazione è un'azione nel senso stare lì a a guardare le cose che non vanno a tra virgolette piangersi addosso piuttosto che comunque a vedere guardare indietro non serve assolutamente a niente quindi la cosa che io ho imparato a fare è guardare avanti focalizzarmi sul sulle cose nuove e quindi magari trovare una nuova sfida che può essere iniziare un qualcosa di diverso un qualcosa di nuovo iniziare a fare delle azioni che non facevo ma soprattutto io in quei momenti lì in particolare sono i momenti in cui vado a lavorare su me stessa quindi magari prendo in mano quel libro che riguardavo da tempo guardo quel video che in quel momento mi può dare quell'ispirazione comunque cerco veramente di andare a lavorare su me stessa in questo senso o comunque per me lavorare su me stessi è anche lavorare sul nostro benessere quindi stare bene quindi può anche essere che in un momento no la cosa migliore sia prendere e andare in palestra la cosa migliore sia prendere staccare e trovare un qualcosa che mi fa tornare nella mia dimensione può essere prendere uscire e andare a camminare in mezzo alla natura cioè non c'è una regola l'importante secondo me nei momenti bui nei momenti no è perché fondamentalmente non stiamo bene noi e se non stiamo bene noi la cosa si riflette intorno a noi quindi è fondamentale che iniziamo a stare bene noi io ho avuto un momento no quando non stavo bene con me stessa perché mi ero completamente lasciata andare quindi parte di quello che ero riuscita a contenere grazie al programma ciao dimenticato mi ero un po' persa via quindi non non mi prendevo più cura di me stessa no avevo anche smesso tra l'altro che bisogna andare in palestra una serie di cose e il fatto di non stare bene io io non stavo bene con me stessa quindi automaticamente questa cosa si riflettiva tantissimo nel business non stavo bene con me stessa e quindi non riuscivo a trasmetterlo stare bene alle clienti alle persone con cui avevo che fare non mi sentivo più un esempio nel momento in cui ho ripreso in mano il mio benessere ho reiniziato a prendermi cura di me è ripartito tutto sembra una banalità ma fateci caso perché quando le cose non vanno c'è sempre qualcosa dentro di noi che è da sistemare e quindi secondo me andare a lavorare lì un'altra cosa che a me ha sempre aiutato tantissimo è il confronto in questi momenti quindi andare a cercarmi il confronto con persone scomode io sono una persona molto scomoda per tanti perché io non sono una che le cose le prendo alla lontana le cose te le dico te le dico in faccia e anche senza troppi cuoricini di mezzo perché soprattutto anche in chat io vado giù vocali diretti cioè non sono molto diplomatica su queste cose quindi sono una persona molto scomoda ma sono così perché so che in quei momenti lì se in un momento in cui tu non stai bene è un momento no vedi tutto nero non ti serve la persona che ti dice poverina ti serve la persona che ti dice ti sbatte in faccia le cose e ti dice muovi il culo è così infatti io in quei momenti lì solitamente vado da Cristiano che è Cristiano è una di quelle persone che che è così è così no? perché io e lui ci amiamo e ci odiamo da sempre perché ci diciamo le cose in faccia cioè siamo scomodi uno per l'altro è bellissimo quindi trovate le vostre persone scomode io ho Daniele il mio compagno che è scomodissimo è proprio su questa cosa qua di una persona di uno scomodo perché te le dice però serve non andate a cercarvi le persone che tra virgolette vi compatiscono consolano passatemi i termini ovviamente perché non andate a cercarmi cercate la pacca sulla spalla tra di voi esatto e soprattutto e soprattutto non ottengo risultati del business bene non vado dalle persone che come me non stanno ottenendo risultati o dalle persone che hanno magari delle qualifiche inferiori andate da quelli che vi sembrano irraggiungibili perché se non ci confrontiamo con persone che hanno ottenuto qualcosa più di noi come facciamo a crescere? Cioè io ho da sempre veramente cercato di stare con persone anche al di fuori di Unstoppable anche al di fuori del network con persone che in qualche modo in qualcosa fossero molto più di me o avessero ottenuti risultati molto più grandi di me e mi capitano intanto quelle situazioni in cui adesso parliamoci chiaro comunque da PMD anche a livello di guadagni cioè siamo molto bene eppure io mi sono resa conto che stare con persone a cui il nostro stare bene è niente ti fa veramente capire quanto possiamo ancora ottenere dove le trovi? Un po' di amici fortunatamente un po' di amici in giro fortunatamente un aneddoto fa ridere il giorno che ho incassato il mio bonus PMD andiamo a cena con una coppia di carissimi amici tra i propri dei nostri migliori amici e andiamo a cena un versante fighissimo stellato vicino a casa da noi la casa nostra che andiamo a festeggiare esco fuori a fumare una sigarette con questo nostro amico e gli dico no guarda stasera sono troppo felice dobbiamo festeggiare ho preso il bonus qua là ho incassato il mio mese più alto quindi stasera ho fruio e lui mi dice veramente volevo fare la stessa cosa io perché? no perché sai hai fatto anche il mio mese più alto era più del doppio del mio e quindi ho detto va bene capito siamo di standard quindi capite che tanto questa è un'esagerazione però è proprio il concetto cercate di stare con persone da cui potete imparare qualcosa cercate di stare con persone che siano meglio di voi in qualcosa tante volte noi andiamo a cercare persone al nostro livello o in alcune situazioni anche magari a un livello tra virgolette più basso anche se non è proprio giusto come termine più basso per sentirci comunque bene per alimentare un po' il nostro ego e per darci la convinzione che però cavolo noi siamo bravi abbiamo sentito delle cose proviamo ad andare invece a cercare di stare in mezzo a persone che hanno raggiunto i risultati molto più grandi dei nostri perché questo ci fa capire che possiamo ottenere molto di più di quello che abbiamo se noi ci acconsentiamo ci sediamo e poi pian piano andiamo indietro ritorniamo nell'uomo esatto eh che grazie mamma mia Giulia sembra che so tutto quello che dico e ti dico che siamo no simili di più eh te l'ho detto che osservando a distanza cioè relativamente a distanza però penso che ci ritroveremo tanto perché sì sì quello che hai detto tutto a parte una cosa è completamente simili nell'atteggiamento nei pensieri e cavolo che bello guarda ecco lei ma sono contenta guarda sono contentissima no perché no veramente non sapevo che cosa aspettarmi perché ripeto io non ti conosco personalmente quindi ti vedo no da fuori e ascoltarti ascoltare tutto l'inter che hai fatto siamo anche lì perché comunque anch'io partorito a giugno del 2013 eh sì esatto siamo ho venuto a stare ferma con il business mio quello vecchio tanta roba emozioni che hai riacceso dentro io ogni volta che ogni volta che ci ripenso che racconto veramente è qualcosa di difficile anche da spiegare perché ti guardi indietro e veramente a volte chiedi ma davvero è successo tutto questo in così poco e l'avresti mai detto che poteva cambiare così la tua vita l'avresti mai detto che avresti ottenuto questo no per quanto io fosse una persona ambiziosa lo dico molto sinceramente non avrei pensato a tutto questo io la prima volta che vedevo anche il gruppo Unstoppable dice ok sì va bene però certi assegni certe cose tanto figurati sono irraggiungibili no però poi passava il tempo e magari non lo so io ero 500 e qualcun altro era 1000 e il momento in cui io ero 1000 quello che prima era 1000 intanto era arrivato a 2000 e poi quando sono arrivato a 2000 io intanto quello era a 5 e quindi vedevi sempre questa cosa no e quindi ti rendevi conto che cavolo però prima io pensavo che quello che sto ottenendo io adesso fosse impossibile invece invece lo sto facendo io non sono niente di più niente di meno di qualsiasi altra persona quindi non ho anzi il fatto di avere delle competenze in quel senso è stato solamente un disastro era meglio se non le avevo quindi forse quindi tante volte secondo me è la cosa che fa la differenza quello che noi vogliamo quanto noi ci crediamo ecco forse l'unica cosa che io posso dire con certezza che anche se non sapevo cosa aspettarmi non sapevo quanto grande poteva essere quello che che mi sarebbe successo ma io una cosa ce l'ho dal primo giorno io non ho mai 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 preso in considerazione la possibilità che potesse non funzionare mai mai e se non fosse stato così io da CVS non avrei lasciato la mia agenzia da CVS io ho detto ragazzi questa è la mia quota della società dove devo firmare tenetevi tutto non voglio niente non ne voglio più sapere e due mesi dopo l'ha fatto anche il mio compagno e quindi abbiamo tra virgolette dato in mano sette anni della nostra vita ai nostri ex soci perché comunque noi credevamo tantissimo in quello che in quello che stavamo facendo poi noi siamo folli sì siamo sempre stati siamo sempre stati dei folli visionari non per niente la nostra agenzia si chiamava visionaire se no non poteva chiamarsi in un altro modo però siamo sempre stati così però io non ho mai preso in considerazione che che potesse che che potesse non funzionare non non ho mai preso in considerazione la possibilità che prima o poi dove si cerca di far qualcos'altro cioè è proprio un pensiero che non fa parte di me e il fatto che questo pensiero non faccia parte di me ti fa anche andare avanti per la tua strada perché come abbiamo come siamo arrivati qua questo e quando ho iniziato mi sembrava impossibile arrivare qua si può fare molto di più siamo all'inizio cioè insomma all'inizio è tutto c'è un mondo là fuori c'è c'è un mondo io giornalmente incontro persone che non sanno assolutamente cos'è Giuseppe cioè persone che non conoscono il nostro mondo quindi se succede così spesso vuol dire che veramente non abbiamo ancora fatto nulla ce n'è ce n'è ti voglio lasciare io con una domanda ecco e io voglio sapere che cosa tu vuoi vedere nel tuo team cosa vuoi veramente passare ai membri del tuo team secondo me le cose sono sarebbero tantissime potrei parlare per ore ma credo che la cosa più importante sia veramente capire che cosa tutto questo può dare a noi stessi cioè quanto questo quello che abbiamo in mano è un'opportunità e quindi quanto è importante credere in noi in primis in ciò che stiamo facendo nelle potenzialità che abbiamo nelle persone che ci circondano perché è fondamentale e soprattutto per me è molto importante quello che noi crediamo quindi imparare veramente quello che io cerco sempre di trasmettere anche al mio team è imparare a prendere delle decisioni e portare avanti le decisioni in base al nostro credo in base a quello che sono le cose in cui noi crediamo davvero non perché ce l'ha detto qualcun altro non perché l'abbiamo sentito dire non perché è la cosa più più giusta è la cosa più scontata è la cosa più comoda ma perché è quello in cui noi crediamo qualsiasi cosa sia è facile no però nel momento in cui voi prendete delle decisioni in base a ciò che voi credete davvero allora sono quelle decisioni che dicevamo prima che veramente poi hanno un significato non sono quelle decisioni prese tanto per dire o tanto perché tutti dicono questa cosa tutti si danno questo obiettivo tutti fanno questa cosa qui e quindi la faccio anch'io come una pepola no cioè prendete le decisioni in base a ciò in cui voi credete davvero cioè fermatevi un secondo fermatevi un secondo e pensate a in cosa io credo cioè qual è la mia mission qual è il motivo per cui io faccio tutto questo cosa voglio fare cosa voglio realizzare nella mia vita magari senza focalizzarsi solamente sull'attività ma in generale cosa voglio io della mia vita perché nel momento in cui tu hai focalizzato quello il resto è tutta una conseguenza quindi secondo me è importante proprio la base è questo poi l'altra tecnica è tutto arriva con l'esperienza col fare 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 perché poi si impara facendo però si impara facendo se io ho una direzione questo è per me il punto bene 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 io vedo che stanno arrivando altre domande vorrei portarla allora questa cosa della chat ragazze anche a me chiedono spesso le chat ma è un evolvement ormai è un evolvement tutto diverso all'inizio è fare fare sbagliare sparare io tuttora approccio in modo diverso perché vado per tentativi io sono molto una cosa che a me piace è provare quindi provo magari vari script provo vari approcci provo vari tipi di sponsorizzazioni faccio prove faccio prove perché per me è fondamentale nel senso io ok parliamoci chiaro tra virgolette da PMD potremmo anche un po' staccarci da una parte di quello che è l'attività però io mi chiedo sempre intanto se io facessi questa cosa e quindi smettessi magari di fare una parte di attività automaticamente è come non voler più crescere perché se io non continuo a creare il mio nuovo se io non continuo a creare nuove linee nuove clienti non provo nuovi modi di creare contatti io in primis non cresco quindi non cresco non mi allargo e comunque tra virgolette dipendo da ciò che ho e questo secondo me vale da quando devo farci buense a quando hai fatto PMD e hai PMD in struttura quindi a prescindere e questo secondo me è fondamentale e poi io sono dell'idea che se non siamo noi per primi lì a fare le cose come dicono alcuni con le mani nella terra come possiamo guidare il nostro team come possiamo consigliare il nostro team se io fossi tra virgolette rimasta le cose che facevo due anni fa probabilmente adesso darei dei consigli anche sbagliati perché le cose cambiano continuamente la nostra è un'attività che si evolve Facebook cambia ogni giorno il modo magari di fare la chat cambia quindi io lo vedo come anche quasi un dovere di un leader quello di essere sul pezzo e essere accanto comunque al suo team ed essere presente davvero ma nel fare le cose insieme perché è questo che fa la differenza poi poi è ovvio che non fai più i clienti di prima che non fai più il numero di chat di prima ci mancherebbe cioè anche perché far tutto le ore sono sempre quelle ragionate sempre di 24 ore però non puoi neanche smettere completamente di fare determinate cose e questo secondo me fa tanto la differenza ma fa tanto la differenza poi anche in come ti rapporti con il team perché cioè se se tu ci sei se tu sei sul pezzo e sto parlando con una persona che lo è tantissimo automaticamente il team sa che può contare su di te il team sa che se ha una una domanda se si scontra con una problematica comunque tu sai tu sei sul pezzo sai di cosa sta parlando cioè ci sei già passato magari e quindi puoi guidarli nel trovare una soluzione in modo che loro poi passano a fare la stessa cosa a loro volta con il loro team e questo per me è importantissimo questo è quello che è stato insegnato a me dal primo giorno e io lo lo tramando al mio team è proprio per me è fondamentale questa cosa è importantissima anch'io e oggi magari uno c'è ti scrivono per avere la soluzione ma non sempre noi dobbiamo dare anzi io non amo dare la soluzione amo dare io non ti do la soluzione il modo finché tu puoi esatto quindi se ci sono delle domande più che delle risposte no? molti lo sanno sì per voi non è perché uno non vuole rispondere guarda io tante volte passo un po' per quella un po' stronza un po' acida un po' lo so cioè ma col mio team anche perché proprio per questo motivo qua no? perché tante volte magari uno si aspetta di avere la risposta pronta si aspetta di avere la soluzione la bacchetta magica ma non è così a parte che non esiste perché diciamo ognuno poi trova il suo modo no? quindi quello che magari è stata la mia soluzione non è la tua soluzione ma soprattutto perché io cioè intanto se ti do io la soluzione tu non imparerai mai a trovarla ma soprattutto un domani se il tuo team verrà da te e ti forrà un quesito tu ovviamente cosa cioè cosa duplichi tu duplichi che ti do la soluzione e quindi crea dipendenza e noi siamo siamo indipendenti invece la nostra è un'attività indipendente quindi è importante che ognuno di noi sappia che è indipendente e deve essere indipendente nella sua attività cioè il nostro sponsor non è il nostro capo che ci deve dire che cosa fare e cosa non fare e noi non siamo il capo delle nostre online e quindi non siamo noi a dovergli dire che cosa fare e che cosa non fare questo è importante quindi concordo in pieno sull'unider e le soluzioni guarda io questa cosa l'ho imparata da un mio ex capo è fantastica quando io lavoravo in un'attività di comunicazione io da accanto organizzavo sempre questi due eventi clienti lei era il nostro diciamo responsabile di tutti gli account quindi quando c'era qualche problematica con qualche evento di qualche cliente andavamo da lei noi eravamo tutti in un open space lei era l'unica che aveva l'ufficio chiuso e io mi ricordo sempre io bussavo la sua porta andavo lì ho un problema e lei mi diceva no chiudi la porta e torno quando hai tre soluzioni io questa cosa l'ho odiata odiata a distanza a distanza di tempo l'ho capita e adesso la trasmetto tanto a mio team lei non mi rimandava indietro perché non c'era voglia di aiutarmi o perché non voleva darmi lei la soluzione lei mi rimandava indietro per tra virgolette obbligarmi a ragionare su quello che stavo facendo e a cercare di vedere la situazione da un punto di vista diverso il fatto di dover trovare tre possibili soluzioni magari poi nessuna delle tre era quella giusta magari erano tre robe senza senso e quindi poi nel momento in cui se ne parlava mi aiutava a trovare la soluzione giusta ma mi tra virgolette obbligava a ragionare a mettermi in gioco e io lì ho imparato veramente che cos'è il problem solving per me la scuola degli eventi è una grandissima scuola perché quando hai un problema grosso grosso perché io gestivo tour promozionali grossi alle 4 di mattina e il mattino dopo hai la partenza del giro d'Italia e magari ti è crollato mezzo stand del villaggio della partenza le impari a trovare le soluzioni e meno male che mi rimandava indietro negli anni prima a cercarmi le soluzioni perché se no io cosa facevo lì? Chi c'era lì alle 4 di mattina che mi dava le soluzioni? Quindi è una scuola di vita ed è una scuola di vita che io ho riportato tanto perché se si focalizzi sempre solo sul problema vedrai sempre solo il problema e invece sposta il tuo focus sulla soluzione Tanta roba tanta roba che mi piace che adoro penso che alle ragazze gli è suonato tanto le campanelle nelle orecchie ma sono completamente soddisfatta e felice di tutto quello che hai detto questa sera ma non puoi immaginare quanto come si dice tante volte l'ambasciatore in patria a volte non è e invece sono è vero è vero è vero voi due mi fate facciamo paura in effetti in effetti mi sa che potrebbero saltare fuori cose interessanti scuola di pensiero abbiamo seguito e questo è bellissimo perché è bello comunque proprio anche vedere quanto tante volte noi magari non ce ne rendiamo neanche conto ma persone che come nel nostro caso magari non conosci più di tanto invece poi fondamentalmente si rivelano essere molto stimoli ma proprio perché questa secondo me questa attività ti porta a crescere in un certo modo e quando comunque tu cresci con una certa mentalità e acquisisci un certo mindset alcune cose poi ovviamente si ritrovano sempre tra le persone cioè è quello è proprio bello veramente guarda è stata una zoom bellissima dove ho ascoltato proprio come un e-v perché per me è un onore lo sai è un ascoltare un ritrovarsi passo passo penso che anche molte di voi ragazze è stato veramente veramente bello e quindi io non ti posso dire che grazie mi fai venire la pelle d'occa così mi fai venire la pelle d'occa così allora io devo sapere che in tutto ciò io tutte le volte che ho una zoom qualcosa vado ancora abbastanza in ansia però ho la mia ho la mia la mia ricetta diciamo per essere più tranquilla è che è non prepararmi quindi io sono così quindi io vado cioè io parto vado se tu mi dici preparati su un argomento io vado in palla perché perché poi inizia entra in gioco lancia la prestazione oddio se non mi ricordo quella cosa lì eccetera eccetera esatto invece no invece io amo proprio così perché poi viene fuori quello che sei davvero secondo me nel momento in cui vai vai ti apri ti lasci andare racconti viene fuori ciò che sei davvero non è filtrato non è impostato e io il discorso del mio PMD l'ho praticamente cambiato tutto quando ero sul palco infatti ed è passato proprio tutto tutto questo assolutamente quindi grazie 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 mille sono entusiasta entusiasta io sono ancora più entusiasta di loro quindi siamo state tutte ma ma secondo me rifaremo secondo me rifaremo di organizzarci qualcosa di assolutamente sì perché ripeto siamo nella più completa sintonia in tutto c'è una cosa che non ho che non ho pensato quindi fantastico veramente felice quindi sono felice perché loro comunque sono abituate con queste cose tanta roba bello 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 grazie sarò due grazie grazie a voi grazie a tutte ragazzi grazie lo visualizziamo lo vogliamo ci lo facciamo lo impegniamo perché io dico sempre anche io voglio essere come bellezza però però bisogna impegnarsi un attimo come sono ok è vero è vero grazie di cuore a voi per questa serata a presto ci vediamo con qualcuno sicuramente questo weekend facciamo una foto eh anche lì sarebbe un po' da parlare va beh lasciamo stare seguiamo vero pietoso ma anche su quello ecco io sono figa dell'evento tre due faccia la cazzo sarebbe bello sì veramente poi nelle foto delle zoom veniamo sempre tutti uno più di dell'altro ma non fa niente eh no gli eventi ragazzi sono qualcosa di fondamentale cioè io come vi raccontavo prima se io non fossi andata a Kianciano probabilmente non sarei non so se sarei neanche andata avanti perché non avevo capito tante cose cioè a me a me rimbombano in testa tante frasi ascoltate gli eventi ma ci sono due cose due cose che delle eventi due cosine perché voglio raccontare velocissime la prima è stata nel momento in cui ho deciso di andare al GoPro a Las Vegas una delle frasi che più mi è rimasta è sta che i leader nascono agli eventi il valore di un leader si vede da quanta gente della sua struttura è in quell'evento perché ogni persona dalla vostra struttura che voi portate in un evento ha un valore per il vostro business e in alcuni business lo puoi calcolare anche a livello proprio economico monetario di fatturato poi secondo me le stime che fa Eric Quarry non sono rapportate al nostro tipo di business ovviamente però hanno un senso e questo veramente cioè gli eventi fanno la differenza cioè non non ce n'è e soprattutto uno quando va a un evento si focalizza sul fatto che la differenza deve fare per forza qualcosa che viene detto da chi è sul palco e invece no vi racconto un aneddoto a un bootcamp vecchio io ero già PMD quindi tipo del 2016 fine del 2016 incontro un ascensore una coppia con un bimbo piccolo bimbo bimba piccola mi ricordo e uno piccolo piccolo uno piccolo piccolo e una bimba un po' più grande in ascensore esauriti no? da ovviamente la giornata con i bimbi cose varie eccetera facciamo due chiacchiere loro mi conoscevano io ovviamente non sapevo chi erano mi raccontano due cose loro facendo due chiacchiere io gli dico due cose mi fanno due domande da lì io non li ho più sentiti per un sacco di tempo finché fanno CNM non tanto tempo fa mi scrivono e mi dicono noi noi siamo enti quel bootcamp ci eravamo dati l'ultima possibilità noi siamo enti quel bootcamp e la decisione era o cambia qualcosa o chiudiamo il codice erano DDS e loro mi hanno detto la cosa che a noi ha fatto scattare il ce la possiamo fare lo facciamo anche noi è stata quella chiacchierotta che abbiamo fatto in ascensore perché c'è stata una frase che hai detto che ci ha fatto scattare quel qualcosa poi da lì si sono fatti il culo le azioni le hanno fatte loro però c'è stato quel qualcosa che non è arrivato a loro in quel momento da una persona che era sul palco ma da una persona incontrata in ascensore cioè la stessa cosa è successa a me a me è successa la convention spagnola quest'anno che il più grande volo raggiunto di quella convention io me la sono portata a casa sempre da un viaggio in ascensore in cui avevamo sbagliato piano era un un hotel tipo di 25 piani quindi li abbiamo fatto su e giù due volte quindi è un viaggio in ascensore piuttosto lungo in cui io mi sono ritrovata con una persona con cui non avevo mai avuto modo di fare due chiacchiere e veramente mi ha aperto una visione completamente diversa delle cose e quindi tante volte noi gli eventi li pensiamo solo come vado mi siedo e ascolto chi parla sul palco ma l'evento è tutto quello che viviamo è tutto quello che c'è intorno è l'atmosfera che c'è è stare con il nostro team stare con le altre persone avere modo di conoscere le persone stare con le persone che vedi sempre solo online cioè è tanto di più quindi mai mancare gli eventi se vogliamo veramente diventare leader se vogliamo veramente tracrescere il nostro business in un modo solido non si manca mai agli eventi basta poi non faccio più troppo pagando per gli eventi bisogna farli bisogna farli però per me è importantissimo cioè io veramente è una cosa su cui spingo tanto ma la differenza la vedo perché la differenza la vedi tra chi viene all'evento e chi non viene all'evento la differenza si vede alla fine perché comunque l'evento ti dà sempre quell'energia in più ti dà sempre quella visione in più ti dà sempre quella carica in più che ti permette magari di fare quel salto o comunque di ottenere magari un risultato in meno tempo non che chi non viene all'evento non otterrà mai risultati no però ovviamente l'evento ti dà molto supporto e ti fa vedere delle cose che se non viene all'evento non vedrai mai e non vivrai mai già noi lavoriamo online e quindi abbiamo un pochissimo contatto di persona e questo a volte è un nostro punto a favore per quanto possa essere un punto a favore su tantissime altre cose su altre magari lo è meno quindi gli eventi secondo me vanno veramente sfruttati quindi se non ci vediamo a Luciscu ci vediamo a Barcellona di qua, di là assolutamente noi ci vediamo a tutte e due noi ci vediamo dappertutto va bene allora noi ci vediamo dai grazie mille ci vediamo sabato grazie ancora una buona notte grazie grazie ciao ciao ciao